Un premier che dà sicurezza nella società che nel bene o nel male fa crescere una nazione e una regione come il Veneto dà da mangiare e soldi. La grande televisione veneta deve essere fiera. La sua vita è pubblica. La sua vita è una nazione e una regione di Veneto, food e money from the great Venetian. La sua vita è pubblica. La sua vita è pubblica.